La festa democratica all'Ograto è giunta praticamente a metà programma dopo la serata di lunedì. Una serata che ha visto una buona partecipazione di pubblico e che è stata animata da un viaggio musicale curato da Radio Vera negli anni 80 e 90 e dal karaoke degli RS. Pier Lorenzo Bulgarini ne ha approfittato per fare il punto sulla festa dopo queste prime giornate e sugli eventi in programma nel prossimo fine settimana. Il bilancio per ora è più che positivo, siamo a metà del guado nel senso che abbiamo avuto i primi giorni, oggi è lunedì, 31 luglio, la festa prosegue questa settimana. Avremo giovedì sera una cena per le persone over 70 che offriamo a un prezzo modico e sono aperte le iscrizioni per tutti quelli che vogliono partecipare, anche non o gratesi. La festa prosegue venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 con Gianni Dei Trio, con Garda Music sabato e domenica con Paolo Facci. Vi aspettiamo, cucina tipica, alimenti sani, una buona birra, qualche buon goccio di vino e tanta bella musica per divertirsi insieme. La festa si tiene nel via Calini a Lograto, noi la chiamiamo area feste, parco adiacente al parco della villa comunale, la villa Morando.